Ma porca mi sono incastrato nei minion Vabbè Ehm I have one Yes, I have a weapon Nooo Mmm Questa non l'ho proprio capita, invadere contro l'issini nerli, vabbè non importa. Dai Aurelion Sol non si è preso niente, comunque ha usato il flash Aurelion. Si, invadere contro l'issini, vabbè non si è preso niente, non si è preso niente, non si è preso niente. Oh, bet. Umu, umu No, non li danno istantaneamente i bordini Possono essere giorni come una settimana o due No, Skillex, figuriamoci Figuriamoci Ma L'avete avuta la notifica, regà Guardi, in questo giro almeno non ci sono morti Asc una lalla Guardi c'è Guardi le poni Ah ma via il flash Io lo troverò per sempre sbagliato Rihanna Ma proviamo male 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 Ah 3, 2, 1 E' uno dei campioni che ironicamente è tra i più bilanciati e sbilanciati allo stesso tempo Perché nel momento in cui tu provi a bilanciare Rihanna Comunque riesce a fare il suo lavoro troppo bene Ciao Ha flashato No Gnar non è molto in meta Non posso avvicinarmi di più Perché infatti Uno c'è Aurelion e due lì sim potrebbe essere mid Disto che era lì vicino da top E si è spostato probabilmente mid Oh lo smuzzi carino Lol Quello è molto meno carino Non questa season sharko Questa season il sistema è stato modificato No Rihanna non si consuma troppo mana Comunque ha flashato Rihanna non si consuma troppo Oh questo giro che Nara ha ascoltato Non si consuma troppo Non si consuma troppo Sì. Oh Ah, l'ultima volta che ha flashato Aurelion. Ma porca, per un... Ma questo tizio ha mai giocato contro Aurelion? Ecco, questo sbaglia. Oh. Lol. Fuck! Eh, ho dato anche un bel gold reward, perché avevo cinque kill in mano. Cazzo! Eeeh... Eveline! Si sta a piglia la torre. Si è presa una free tower. Eh, si, è un po' tattile... Venire... Sì, sì, sì. Sono ciechi? Cioè hanno le ward pure ora Ho spazzo Ou è così Questo è un gioco Molto D'acquittario D'acquittario Tuo e giusto Raudo Non vuoi Non vuoi Non vuoi Ha flashato Buono Perché è fastidiosa? A me piace la bottiglia di Yann I hear soft E' un livellato là eh Ok Sono confuso Ok Io lo accetto No probabilmente Pai voleva farmi una full combo e poi aveva la ulti Però Mi ha confuso non poco No Ok Mm 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 mm. Mm mm. Mm mm. An ally has been slain. Sono f**king confuso. Oh. 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 i danni di che farmo sono abbastanza al sicuro ci ho provato zio non posso fare miracoli boia eh qua ho preso un bel po' di schiaffi ho preso un bel po' di schiaffi da combo di ken e nezzer facciamo il festival bar addosso la season finisce alle luna del mattino di stanotte però vacci ma qualcuno l'ha preso sto blu baffo no perché non capisco perché qua il trinket non lo fa vedere non ce l'ha lui non ce l'ha lui non ce l'ha Kaiza dovrebbe esserci all'ora in teoria ah c'è infatti ah 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 dai che culo adesso mi sa che mi faccio dopo Rabadon mi faccio un velo della Banshee però una W fa 600 danni no lo so che non lo fa vedere perché non ce l'ha la visione ma sembrava di sì sinceramente visto che vedevi il centro dello shrine vedi? a bordo ma lo vedi io non posso faceciccare qua potrebbe esserci Pyke potrebbe esserci Resin non posso rischiare Sbrindex 00 grazie mille per il sabbro bella caro benvenuto benvenuto com'è? t'ha a posto? spero che tu ti stia godendo lo streaming eh se lo stanno a fa che cazzo ho appena fatto sono un dio ahahahahahahaha porca truia che cazzo era quella shockwave holy moly ha 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 pornografia questa era pornografia Porca droia ragazzi Questo è stato veramente epico Holy moly Quella culti su quattro Mamma BOOM 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 Bella BOOM 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 BOOM